Nian nian ragazzi e benvenuti nel mio canale, io sono Cat4BJD e questo è il secondo gameplay di The Last Guardian Nel primo, per chi non l'avesse visto, date a vederlo subito, sto scherzando, vabbè vi faccio un piccolo riassuntino giusto per chi l'ha visto ma non se lo ricorda Abbiamo conosciuto Trico, l'abbiamo salvato togliendogli le due lance come il leone con la spinetta nella zampina E adesso lo sfruttiamo, no scherzo Con il nostro mega scudo che indica i posti e lui zotta, lo zotta con un mega fulmine dalla coda Andiamo, non si sa bene a far che cosa perché non abbiamo capito né dove siamo, né come siamo arrivati qua Eravamo dei bambini che carrevano felici e a un certo punto trovano uno scudo e che è fregati Quindi andiamo a vedere come entra avanti The Last Guardian, non è perfetto ma a me piace tantissimo E andiamo Ciao Trico Ah giusto, ci ha riportato qua Va bene, Geronimo di nuovo No, no No, vabbè ma io voglio far Geronimo Ma io ho deciso Tanto l'altra volta mi è andata bene Geronimo D'altra volta abbiamo capito che lui tanto non ci viene, anche se è calda, anche se gli abbiamo dimostrato che Puh, pelo di gatto Scusate, ho tanti gatti, ne ho tre Tra l'altro ogni tanto ho visto dai video che si vedono qua dietro perché a loro piace andare a capire perché sto urlando da sola E soprattutto sto parlando da sola perché ovviamente, come dire Ah ma se io faccio questa cosa fantastica Allora No, no, no Qui, qui, in alto, in alto, in alto, in alto Non a me, non a me Ok, mi sono arrivata un po' di roba addosso Mi è arrivata un po' di roba addosso però Ce la posso fare La Salta E dove cazzo salta Eh Oh, mi ha capito salta Ah, questa Magari devo prenderla Ah, 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 ah Giusto Tra l'altro è molto realistico come si muove Cioè nel senso effettivamente un bambino un po' scimmiesco Si muoverebbe esattamente così Ok Cioè Ok Pianino, pianino Ma secondo me devo scendere, basta Ma si lasciamo Effettivamente non ha senso quello che sto facendo Ok Ok, qua c'è del cibo per Trico E credi che Ah, forse lo attiro con il cibo Ok, allora Afferriamo E quello non è venuto con noi Ovviamente Madonna santa Scusate Io sono un po' imbranato ogni tanto E chi non ha testa a gambe Come diceva mia nonna quando ero piccola E quindi ricominciamo da capo Che ti devo dire Opla 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 E adesso Saltiamo Salta Salta Aiuto Ok La telecamera va un po' dove vuole lei Dai, 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 dai Che ce la possiamo fare Essa è rotta tutta Dai, salta Fare Fare il pusillanime Allora Raccogli Perché salta? Devo raccogliere Mi dà suggerimenti sbagliati Allora Dice che lo convinco così Dai Dai Se io prendo questa roba E la lancio laggiù È molto bene Stavo dicendo Se io prendo questa roba E la lancio laggiù Opla Non galleggio Ah, che galleggio Poi prendo dell'altra roba Ecco qua E la lancio Ah, si è buttato Oddio Oddio, si è buttato Per il cibo questo ed altro Come i miei gatti Andremo d'accordo Io e te Trico Perché sono abituata Con gli altri due Altri tre deficienti Eh, scussate Tanto no Voi non lo vedete No, no Non saltare Doc 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 Giù Doc Così c'è Ok, basta Si è stufato Ha camminato un po' Sullo schermo Visto che non c'era niente Di interessante Mi hanno usato un po' E se n'è andato Eccolo laggiù Lo vedete Quello è Doc Praticamente siete le uniche persone Al mondo Che lo vedono a parte me Più o meno Sì, non è molto socievole Ok Detto questo Non lo so C'è la calcata C'è un capello Ok E adesso cosa facciamo? Lui è sceso Molto bene Ah, forse dobbiamo andare di là Aspetta, aspettami però Eh, ma io così come cacchio ci arrivo Stupido animale la compagnia Ah, ok Sì, posso arrivarci Eh, ma io non ci arrivo così però Non ci arrivo fino a lì Eh, ma ciccio Io non ci arrivo Eh, idio Eh, cioè Non ci arrivo mica io lì Fino a lì, eh Buzzo scemo Vieni qua Passo un casino Eh, sali Fammi Ok, andiamo Ok A posto Ma andiamo, dove ti pare, ma Ci caccio, arrivo io lì Ok Ah, ma c'è della luce piccinissime Ok Ah, madonna Santissima Sì, bravo, bravo Sì, bravo, ma c'è della luce Ok, andiamo Ok, andiamo Vediamo un po' se c'è dell'altro scibo per te qua Ok Oh, la luce Sì, ma io non voglio andare via senza Tu mi stufi Giuseppino lì Adesso, boh, buttaggio tutto Ciao Ciao amore Guardalo lì Che carino Adesso devo salutarti Devo tornare il mio villaggio Ma lo lasci lì Ma come addio Ma sei un bambino orribile Ma io non voglio andare via Vabbè Non vuole smettere di Oh, Trico Trico, Trico, dove vai? Non credo che siamo a casa Ah, è un mega castello Tipo quello di Shadow of Colossus Stupendo Vedo tante complicazioni Essendo che l'altra Vabbiamo lasciato una gratta frutta e umida E eravamo emersi in un posto che non avevo mai visto E quindi? E quindi non è bello Tra l'altro lui non ha le ali Cioè lui ha delle specie di piccole alucine Le tue ali sono rotte Ah E' vero perché gli hanno infilato quelle robe nella Nella luce E quindi non può volare Purino Più tardi mi sarei reso conto Che mi trovavo nella tana della bestia Il nido Dove? Prima? Adesso? Prima? Beh, insomma Tana della bestia Mica troppo Cioè l'avevano incatenato lì Ok Vabbè, dai Trico Mi sa che io e te qua Cos'è sta roba qua? Da qua dobbiamo collaborare O qua ci crepiamo Sì 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 Non te arrabbià Che qua Che adesso troviamo una soluzione Ok Vabbiamo di qua Io vado di qua Non mi fa arrabbià Che adesso cerchiamo una soluzione Secondo me qua crepiamo tante di quelle volte Secondo me Ok, bravo No perché Il salto là La vedevo dura Perché non salta molto Cosa sta facendo? Trico Cosa Mi inquieta Quando fa così Secondo me è salito su quei cosi là Ok Lascia Dunque autonomo nella sua follia Ah, salta da un parocchio all'altro Bravo, bravo Trico Vai Trico Così si fa Adesso io passo di qua Tra l'altro è molto più autonomo di qua dico Che adesso non mi ricordo come si chiama Ma la chiamerò un pa Perché la chiamavo sempre un pa Tra l'altro poi ci innamoriamo Non credo succederà in questo caso Perché cioè Se mi innamoro di quella roba lì Ho dei problemi Allora Secondo me lui zumpa fino a là Io no Ma lui sì Vieni Tiada Mi fa un po' inquietudine Fa veramente inquietudine, vero? Sì, sai, sai Ok Sì, un attimo Un attimo Un attimo prima di zumpare Vabbè Mi sono infilato qua sotto Nel Ok Vai Scusami Dove che ho? Aspetta No, 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 no Ok Come no Come no Perché non va? Scusate, ma non ho capito Ah Allora A parte il fatto che Mettere nello stesso punto Il tasto per Tirare sullo scudo Il tasto per fargli le coccoline Secondo me È una roba idiota Ma vabbè Non importa Perché cacchio Non gli fa Ah Su Scendo Provo a scendere Da Trico Scendi 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 Lasciati Ok Proviamo così Va Ma scusate È due ore Che faccio questa cosa Comunque Ah 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 No 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 Ah perché Dovevo Rispiare di morire Vero Che culo È giusto Se non rischio di morire Non sono mica felice Allora No Allora No 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 Trico Non è una bella idea La tua Che cavolo Io muoio Ok Ok Ah Qua ci sono delle scale Perfetto Ah Posso passare di qua Ok Scusate Non vedevo C'è giro Eh Quindi Ok Perché sto andando a due all'ora Impazzita Deciso di andare a due all'ora Così mi sono Fatta un sacco di Ah perché puoi anche andare proprio a due all'ora Tipo Tipo in punta di piedi Che figata Allora Allora qua c'è uno cancello Ok Ciao Trico Ma guarda quanto è carino Sì un attimo Un attimo Adesso troviamo un posto dove farti andare Eh Trico Ma è carinissima Ma è carinissima perché c'è tanto cosa che ti guarda Oh ci sono le farfalline che piacciono a Trico Oh guarda qua Scusate Eh ma non posso Non posso raccogliere questa cosa Afferra no 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 Vabbè Non lo so Ah e sono salita Sì un attimo Dai qua può venire Ah dice Trico Trico Dai vieni qua Perché non puoi venire di qua Ci credo Dai Salda su Lei che salta, lei che salta, lei che salta, lei che salta Dai Oh lo sapevo che potete venire di qua Allora Poi Che non ti piace, che non ci credo neanche morta E sulle farfalline che piacciono a te No Vieni, vieni Vieni È inquietantissimo Ciao Ciao Ok, siamo passati dall'altra parte Noi, sono passati Noi, sono passati Noi, sono passati Non ci credo che non ci credo Non ci credo che non ci credo Grazie a tutti. Prendiamo un punto di vista più alto. Ah, guarda, vedi che di là si può andare però. Si può salire sopra di là. Se tu mi partassi di là, Trico. Trico. Mi parti di là. Bravo, bravo, amore. Di qua, di qua. Ok, va bene anche qua. Secondo me può anche andare qua. Eh, aspetta. Ah, io lo so. Su, capace. Ok, ci ho fatto. Sì, ogni tanto, cioè, devo dire la verità, il salto potrebbe essere un po' più agevolato. Allora, sali su, sali su, sali su, 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 su. Su, in alto nel cielo splendente. Bravo. Adesso salti di là, di lato. Ok. Ok. Salta. No, no, salta. Ok. Salta. Ah, ok, gli devo tanto... Beh, ma lo scopo della mia vita è dar da mangiare a Trico. Magari perché poi gli crescono le ali, non lo so. Non riesco a capire esattamente, però vabbè. Devo tanto a mangiare a questo. Spero che non gliela avergliela tirata in testa. È proprio piuttosto imbarazzante. Trico, scusa se ti ho tirato in testa la roba, non è che volevo. Proviamo? Geronimo? Ma no, dai. Venti. Secondo me è un po' c'è. Ok. Ok, ce l'abbiamo fatto. Sì, tecnicamente dovrei andare dall'altra parte, esatto. Ok, vai. Su. Cosa guardi? No, 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 no. Su, su, su. C'è qualcosa lì che non ho visto. Cavolo è. Ma credo che per ora dobbiamo dar da mangiare all'animale setoloso. No, non è un animale setoloso in verità, è un animale piumato. E il nostro obiettivo sia quello di dare da mangiare all'animale piumato per, penso, per rimetterlo in forza probabilmente. Cosa sta, cosa, sì, eh, devo dire la verità. Eh, sì, sì, una, ho capito. Se eviti però di farmela spenzolare, è meglio, non trovi. Ecco. Perché dovrei spenzolare là? Eh, ok. Ah, ah, no, no, perché, scusatemi, ma io sono troppo abituata con la X. Non mi guardo, ho capito, ho capito che è quella. Trico, mi inquieti. Va bene? Mi inquieti. Ho capito che devo saltare, ho capito. Ho capito, ho capito. Adesso salgo, eh. Tra l'altro, cioè, è più intelligente di noi. La cosa non ci vuole molto, però va bene. Oh, possiamo andare da questa parte. Non sa cosa ci sarà da questa parte. Ah, qui c'è un posto dove Trico può andare. Nel senso, cioè, dove deve andare perché deve... Ok, e qui c'è un altro di quegli affari, lì. Oh, c'è ancora una lucertola. È la prima cosina che trovo, a parte... No, più è dura la lucertola. Di solito non ci sono mai... Oh, madonna. Ciao, Trico. Ok, vieni, mangia. Poi apri questa cosa qua. Ok, mangia però, eh. Te l'ho dato. È lì. Oh, ma guardate quanto è carino. Cioè, è veramente carinissimo, Trico. È veramente una cosa deliziosa, tra l'altro. Non sto neanche guardando. Se sto registrando, va bene, non importa. Dai, Trico, mangia. No. Vabbè, non gli piace essere guardato mentre mangia. Va bene, d'accordo. Non ti guardo, non ti guardo. Ok, possiamo andare. Forse è meglio salire sotto a Trico. Trico, finti di mangiare? Mi piace. Come no? Come ero acidi? Eh, eh, scusa. Ok. Afferra, usa cosa. Cioè, tra l'altro è sempre uguale. No, ma, scusa. Ma, Trico, ma, ma. Ma, scusa, ma, cioè. Ma come no? Ma perché se ne va senza mangiarlo? Prima di tutto se ne vai senza di me. Vieni qua. Eh, eh, che cavolo fai? Trico, vieni qui immediatamente. Mio Dio. Opa! Cosa fa? Mangia. Che devi metterti in forze. Ma ti pare? Guarda qui. Vieni qui. Mangia. Ma sei imbranato forte, proprio. Ma. Non sei capace. Cioè, non sei capace di mangiare. Ok, bravo. Intanto io vado. Ok, andiamo. Soprattutto non te ne andare senza di me, santo ce l'ha. A parte il fatto che si è scocciato perché era troppo difficile mangiare. Se ne è andato senza mangiare. È impazzito. Dai, andiamo, Trico. Andiamo. Su, 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 su. Ah, non ti aspettai che io mi arrampichi, ne? No. Eh, scusa. Dai, vai. Dai. Andiamo. Dai. Cosa stai facendo? Andiamo? Ma, scherzi? Andiamo? Oh, madonna. Su. L'hai fatto prima. E' andata di là? Eh. E' andata? E' andata? Oh, non dimmi che non riesco a cominciare ad andar di là. Dai. Dai. Dai, Trico. E gli stai dice vai di là? No. Non ci va? No. Forse non ci va se ci sono io. Non ci va se ci sono io. Maledetto. Cioè, mi devo trovare io un modo per andarci. Però sei un po' cattivo con me. Come faccio ad andar di là? Boh. Oh, ogni tanto non riesco a capirlo questo gioco. Non so se è la colpa del fatto che... No, perché così torna in re e non va bene. E lui è andato di là. Ma io come faccio ad andar di là? Cioè, bravo. Sei andato di là. Forse si posso... Posso arrampicarmi. No, no. Qua c'è del... Ah, qua. Vabbè che poteva anche portarmi lui, né? Vabbè. Sì, posso passare di qua. Scusate, non l'avevo visto. Ciao, inquietantissimo. Certo che sei proprio un culo di piombone, eh? Eh. Oh. Vabbè, ti voglio bene lo stesso. Oh, mi sta venendo il mal di stomaco. Figuratevi a voi. Di... Oh, ragazzi. Cioè, non si capisce. Ok. Un tubo. Oh. Che pace, tranquillità e serenità. Va bene. Andiamo a vedere dove siamo. Qua c'è una specie di sentiero. Trico, non te ne andai in giro a cavolo tuo, eh? Che non sappia neanche dove siamo. Tra l'altro, queste musiche mi ricordano tantissimo lo studio Ghibli. Non so perché, ma... Ico mi ha sempre ricordato lo studio Ghibli. Anche un po'... Oh, vedi. Bello, bello. Certo, ripeto, la grafica poteva essere migliore. Sì, sicuramente. Però... Non mi manca questa cosa, se devo essere sincera. È molto, molto bello. Cioè, è d'atmosfera. Cioè, spero che non passino altri dieci anni per il prossimo. Però credo di no. Perché Last Guardian, comunque, nonostante tutto, ha venduto tantissimo. Veramente tantissimo. E non so più dove è finito. Molto bene. Non so più dove è finito Trico, vabbè, non importa. Adesso cercheremo di capire dove siamo e dove dobbiamo andare. Ma è venuto veramente tanto. Soprattutto le Limit Edition sono andate veramente molto bene. E quindi sono molto contenta. E direi di fermarci qui per oggi. Siamo arrivati in un posto bellissimo. Abbiamo visto il castello. E dobbiamo trovare un modo per entrarci. Ma ce la faremo, sono sicura. Che altro dirvi? Grazie per essere rimanati qua con me. E mi piace per supportare la serie. E alla prossima, gente. Baci, baci. Ciao. Ciao.